ciao amanti dell'estate io sono il vostro solare design oggi siamo in un nuovo video oggi vi faccio vedere come si fa a fare allora come si fa a fare per iniziare facciamo un quadrato di 8x8 ok ho rifatto il quadrato adesso dobbiamo fare un'altra nuova ok adesso che avete fatto il cubo dobbiamo fare i capelli oh no faccio cadere la piccola dobbiamo mettere i capelli io non voglio mettere i capelli che c'è qua o l'altro ora è fatto così e e e e e adesso che dobbiamo fare adesso dobbiamo praticamente fare il naso ed ecco fatto la testa uuu la testa di erbo vabbè adesso dobbiamo fare un corpo di 11x8 non dobbiamo fare il corpo no dobbiamo fare tre e un giugno sennò diventa un aerobrine creeper ed è brutissimo al posto di fare questo prendiamo per esempio un braccio questo questo facciamo così così 1 4 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 8 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 19 19 15 16 16 19 19 19 20 19 20 21 21 22 22 22 22 25 23 23 25 25 25 26 28 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 Le gambe si fanno invece così, così, facciamo uno qua o quattro e poi facciamo così, giriamo facciamo e fate una cosa così che quando vuoi posere ed ecco qua il nostro aerobrink facciamo una cosa così, perché almeno un pochino così e facciamo un po' di tre pezzi, l'unione, tre pezzi e l'unione però non è tutto perché dobbiamo fare i cosi qua, che scegno la maglietta, i tre con un facciamo un, due, tre, allineiamo qua, facciamo uno, più o meno, no dai, fa schifo, no che schifo, è venuto malissimo, così, questo lo sistemiamo, facciamo così, facciamo così e poi dobbiamo fare tipo, così, 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 mi sto cacchiando, così, 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 è un'altra ok, per fare il colletto partiamo da qua e lo facciamo così ed ecco qua il nostro aerobrine che sembra che ha la barba però non ce l'ha ciao 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 ciao